Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il martedì 30 di marzo del 2021 e abbiamo il privilegio di leggere un altro libro della Bibbia. Noi abbiamo già letto Genesi, Esodo, Levitico, questo è il quarto libro che dobbiamo leggere, il libro dei numeri, numeri che è un periodo molto importante per il popolo di Dio. In effetti il nome del libro in ebraico vuol dire camminando nel deserto perché il popolo di Dio ha attraversato un periodo, ha vissuto un periodo di 38 anni, esattamente 38 anni dal monte Sinai fino al confine con Canaan quando dopo dovevano entrare nel territorio della terra promessa che Dio aveva dato a loro. Quindi un periodo lunghissimo dove molte cose accadono. Quindi è un libro pieno di dettagli, pieno di informazioni, pieno di insegnamento per la nostra vita. Noi questa mattina, dopo aver letto altri libri della Bibbia, noi naturalmente incomincieremo con il capitolo 1, leggeremo anche il capitolo 2 del libro dei numeri. Quindi la parola del Signore, leggiamo la Bibbia insieme, incominciando oggi, il 30 di marzo del 2021, il libro dei numeri. La parola del Signore dice così. Con voi ci sarà anche un uomo per tribù che sia capo del casato dei suoi padri. Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno. di Efraim, di Efraim, Elisamma, figlio di Amiud, e di Manasse, Gamaliel, figlio di Pedazur. Di Beniamino, Abidam, figlio di Gideoni. Di Dan, Aizer, figlio di Amizadai. Di Asher, Pagiel, figlio di Okran. Di Gad, Eliasaf, figlio di Deuel. Di Neftali, Aira, figlio di Enan. Questi sono i membri della comunità che furono convocati i capi delle tribù dei loro padri, i capi delle migliaia di Israele. Mosè ed Arone presero dunque questi uomini che erano stati disegnati per nome. E convocarono tutta la comunità il primo giorno del secondo mese e il popolo fu censito secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, contando il numero delle persone dai vent'anni in su, uno per uno. Come il Signore li aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del Sinai. Fili di Ruben, primogenito di Israele, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi di tutti i maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Ruben, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi di tutti i maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Simeone, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Gad diede la cifra di 45.650. Fili di Giuda, loro discendenti secondo le loro famiglie e loro famiglie, secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Giuda diede la cifra di 74.600. Fili di Issacar, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Issacar diede la cifra di 54.400. Fili di Zabulon, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Zabulon diede la cifra di 57.400. Fili di Giuseppe, figli di Efraim, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la loro discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Efraim diede la cifra di 40.500. Fili di Manasse, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Manasse diede la cifra di 332.200. I figli di Beniamino, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Beniamino diede la cifra di 35.400. Fili di Dan, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Dan diede la cifra di 62.700. Fili di Asher, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Asher diede la cifra di 41.500. Fili di Neftali, loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare in guerra. Il censimento della tribù di Neftali diede la cifra di 53.400. Questi sono gli uomini di cui Mosè e Arone fecero il censimento, assistiti dai dodici capi di Israele. Ce n'era uno per ognuna delle case dei loro padri. Così tutti i figli di Israele dei quali fu fatto il censimento, secondo le famiglie dei padri dall'età di vent'anni in su, cioè tutti gli uomini che Israele potevano andare in guerra. Tutti quelli dei quali fu fatto il censimento furono 603.550. Ma quelli che erano leviti secondo la tribù paterna non furono compresi nel censimento con gli altri. poiché il Signore aveva detto a Mosè, soltanto della tribù di Levi, non farai il censimento e non ne unirai l'ammontare a quello dei figli di Israele. Ma affida ai leviti la cura del tabernacolo, della testimonianza, di tutti i suoi utensili e di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili ne faranno il servizio e staranno accampati attorno al tabernacolo. Quando il tabernacolo dovrà partire, i leviti lo smonteranno. Quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i leviti lo rimonteranno. L'estraneo che gli si avvicinerà sarà messo a morte. I figli di Israele pianteranno le loro tende, ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le loro schiere, ma i leviti pianteranno le loro tende attorno al tabernacolo, della testimonianza, affinché la mia ira non si accenda contro la comunità dei figli di Israele. I leviti avranno la cura del tabernacolo, della testimonianza. I figli di Israele fecero così, conformandosi in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Numeri capitolo 2 Il Signore parlò ancora a Mosè e da Arone e disse, I figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera, sotto le insegne delle loro famiglie paterne. Si accamperanno di fronte e tutto intorno alla tenda di convegno. Sul davanti verso oriente si accamperà la bandiera del campo di Giuda con le sue schiere. Il capo dei figli di Giuda è Nazon, figlio di Aminadab, e il suo contingente, secondo il censimento, è di 74.600 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Issacar. Il capo dei figli di Issacar è Netanel, figlio di Suar, e il suo contingente, secondo il censimento, è di 54.400 uomini. Poi la tribù di Zabulon, il capo dei figli di Zabulon, è Eliab, figlio di Kelon, e il suo contingente, secondo il censimento, è di 57.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Giuda, sommando le loro schiere, è dunque 186.400 uomini. Questi si metteranno in marcia per primi. A sud starà la bandiera del campo di Ruben, con le sue schiere. Il capo dei figli di Ruben è Elisur, figlio di Sedeur. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 46.500 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Simeone. Il capo dei figli di Simeone è Selumiel, figlio di Suri Sadai. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 59.300 uomini. Poi la tribù di Gad, il capo dei figli di Gad, è Eliasaf, figlio di Reuel. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 45.650 uomini. Il totale del censimento del campo di Ruben, sommando le loro schiere, è dunque 141.450 uomini. Si metteranno in marcia in seconda linea. Poi si metterà in marcia la tenda di convegno con il campo dei Leviti. In mezzo agli altri campi, nella marcia seguiranno l'ordine nel quale erano accampati ciascuno al suo posto con la sua bandiera. A occidente starà la bandiera del campo di Efraim, con il suo contingente. Il capo dei figli di Efraim è Elisama, figlio di Amiud. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 40.500 uomini. Accanto a lui si acamperà la tribù di Manasse. Il capo dei figli di Manasse è Gamaliel, figlio di Pedazur. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 32.200 uomini. Poi la tribù di Beniamino, il capo dei figli di Beniamino, è Abidana, figlio di Gideoni. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 35.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Efraim, sommando le loro schiere, è dunque 108.100 uomini. Si metteranno in marcia in terza linea. A settentrione starà il campo di Dan con le sue schiere. Il capo dei figli di Dan è Ai-Ezer, figlio di Ami-Zadai. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 62.700 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Asher. Il capo dei figli di Asher è Pagiel, figlio di Ocran. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 41.500 uomini. Poi la tribù di Neftali, il capo dei figli di Neftali, è Aira, figlio di Enan. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 53.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Dan è dunque 157.600. Si metteranno in marcia per ultimi secondo le loro bandiere. Questi furono i figli di Israele, dei quali si fece il censimento, secondo la discendenza paterna. Tutti gli uomini dei quali si fece il censimento e formarono i campi, ciascuno nel suo contingente, furono 603.550. Ma i Leviti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, non furono compresi nel censimento con i figli di Israele. I figli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Così si accampavano secondo le loro bandiere e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia, secondo la discendenza paterna. Parola del Signore. Davvero ringraziamo Dio per aver incominciato la lettura di un altro libro della parola di Dio. Ma io ti aspetto affinché domani noi possiamo continuare in questo cammino nella parola di Dio. Il Libro dei Numeri, oltre a dare tante informazioni dettagliate e organizzate del numero delle persone, in questo caso di uomini pronti per la guerra all'interno del popolo di Dio, più che sparso, diviso, secondo le sue bandiere, secondo le loro famiglie, è un popolo che ci insegna che Dio ha un proposito per noi e che noi vedremo quanto è importante seguire le orme del nostro Dio, ascoltare la sua voce, quindi aspettatevi delle belle sorprese che accadranno ancora nella lettura di questo libro. Nel frattempo io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, augurandovi una giornata benedetta e sperando nel Signore che domani noi possiamo continuare la lettura della parola di Dio. Dio ti benedica nel nome di Gesù.